Grazie Presidente, l'Europa sta morendo, gli europei si battono, in tutto questo meraviglioso continente ci sono famiglie che non riescono a mangiare, gli imprenditori devono spostarsi in altre parti di un mondo che è sempre più sotto pressione, la concorrenza è un elemento fondamentale per le piccole e medie imprese, non solo per i piccoli imprenditori, ma anche per chi deve trovare il lavoro per poter mantenere i propri figli, pagare le bollette, quindi è un'ottima cosa quando c'è un rapporto firmato da un collega come Messe Smith a cui stanno a cuore tutti questi temi, è bello vedere che sia stato lui il relatore, però ahimè in quest'Aula, in un'istituzione come questa, questi rapporti non riescono a sopravvivere agli obiettivi che segue un relatore, perché alla fine quest'Aula e i deputati in quest'Aula hanno regole che sono dettate dalle grandi multinazionali che riescono ad avere accesso preferenziale agli uffici dei commissari e dei parlamentari. Io li vedo scorrazzare qui a Bruxelles dove hanno liberamente accesso ai deputati, sono loro che possono dettare le loro regole in una istituzione che non è eletta e che promuove non il capitalismo ma il corporativismo, l'avidità e non la capacità, l'avidità di chi già guadagna migliaia e migliaia di Euro a guadagnare sempre di più sulle spalle di chi fatica ad arrivare alla fine del mese. Qui la concorrenza ma anche i propri obiettivi e neanche una relazione come questa potrà raggiungere gli obiettivi che noi perseguiamo, quello di salvare dalla povertà tanti europei. Grazie onorevole Wolff. C'è una blu card per lei dell'onorevole Jakobczyk. L'accetta? Prego per 30 secondi. Onorevole collega, come fa lei a dire dal suo punto di vista che tutti qui siamo alla mercè e al soldo dei lobbisti? Io decido per me. Sono grato che... lei si senta libero e anch'io mi sento libero tanto quanto lei ma quello che ho visto succedere in questo Parlamento è che il PPA e i socialisti votano in blocco spesso e volentieri insieme. Le vostre decisioni sono fatte dalle dirigenze dei vostri partiti che si fanno consigliare dalle grandi imprese. Sia libertà per lei individuale forse anche sì e anche sì ma non per il suo partito. Allora io ho sentito alcuni interventi da parte qua dei colleghi e ritengo che molto spesso questo Parlamento appunto faccia buoni provvedimenti e vada a scrivere poi anche buone leggi e quant'altro. Poi il problema qual è? Che a livello di chi veramente ha il potere esecutivo per questa Unione Europea, ovvero il Consiglio e la Commissione che dovrebbe poi dopo fare delle buone direttive, molto spesso non ascolta i provvedimenti che arrivano da questo Parlamento. Allora quindi mi chiedo perché? Mi chiedo perché ci troviamo con Juncker ad esempio come Presidente della Commissione, colui che appunto ha fatto del dumping fiscale la fortuna del suo Paese per più di 15 anni, colui che potrebbe domani perché li conosce tutti, tutti gli escamotage di elusione fiscale, fare dei buoni provvedimenti e invece facciamo una Commissione che in sei mesi dovrebbe dare dei consigli a chi? A chi conosce proprio tutte le pratiche elusive, il punto è questo fondamentale, cioè che il Parlamento lavora magari anche bene, però purtroppo Commissione e Consiglio che sono alla merce delle lobby, come diceva il mio collega Wolf, molto spesso non fanno l'interesse dei cittadini, vanno a fare l'interesse dei grandi capitali e purtroppo in questo caso ci vanno di mezzo i cittadini che vediamo appunto come stanno seguendo le conseguenze, con la disoccupazione, con tutto quello che è la distruzione del sistema dei mercati basati magari sulla microimprenditoria, una concorrenza sleale, dove le multinazionali tengono sedi fiscali, sedi legali in tutti i Paesi in cui gli conviene, quindi dovete fare qualcosa per firmare questa questione, se no bisognerà tornare a un protezionismo. Grazie.